Il gruppo di opposizione di Vibonati torna alla carica sulla traslazione della tomba lucana attualmente ubicata nei pressi del monastero. Con alla mano un documento del 20 luglio 2020 relativo ad indicazioni della soprintendenza al comune per il trasferimento della sepoltura, il capogruppo Giovanni Scognamiglio ha evidenziato delle mancanze rispetto alle prescrizioni dettate. Per la traslazione, dice la soprintendenza, per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dovrà essere comunicata a questo ufficio, quindi il comune dovrà essere comunicata alla soprintendenza, il giorno, il mezzo con cui verrà effettuato il trasporto, specificando il moderno, il numero di talga e il numerativo del conducente. Dovranno essere fornite garanzie in merito alla sicurezza dei locali in cui sarà allocata la tomba, le operazioni di restauro della tomba e dei corredi funerari dovranno essere preventivamente concordate con il professionale tecno-scientifico di questo ufficio. Ora, la prassi amministrativa quale sarebbe stata? Che il sindaco, dopo avergli comunicato il professore Abrava che bisognava togliere questa tomba lucana da lì, doveva fare una semplice delibera nella quale affidare il responsabile di servizio di procedere a traslazione seguendo alla lettera la nota della soprintendenza. Cioè, una cosa è che tu vuoi prendere in giro il tuo elettorato, il tuo entourage, ma per un esterno elettuale non vuoi prendere in giro né noi, ma nemmeno un ente importante come la soprintendenza, perché di fatto non ha rispettato la circolare del ministeriale, tra l'altro, della soprintendenza che poi quando riguarda qualsiasi traslazione è qualcosa di importanza storica. Scognamiglio ha replicato anche a chi gli imputava di non essersi interessato al problema della tomba nel 2014 quando venne scoperta, epoca in cui sedeva come consigliere di maggioranza nell'amministrazione Marcheggiani. Sono esente da ogni responsabilità, in che senso? Io nell'arco della mia vita amministrativa non ho mai ricoperto il ruolo di assessore, quindi non ho mai fatto parte attiva di azioni fatte bene o male dell'amministrazione. Come consigliere mi sono assunto responsabilità che non mi è meno me competibile, ma perché mi piace, siamo il mio paese, avrò fatto bene, avrò fatto male, ma l'aggiunta è quella che poi determina le azioni. Quindi Manuel nella sua vita amministrativa ha fatto vice sindaco, una volta amministratore, poi posizione vice sindaco, posizione sindaco adesso. Quindi responsabilità a me o ai miei consiglieri, bravi ragazzi, giovani, non si deve imputarne proprio. Grazie. 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 Grazie.